Dalla terza categoria all'eccellenza, i protagonisti del calcio dilettantistico Aretino si preparano all'edizione 2017 del Gran Galà, in calendario per giovedì 18 maggio alla Casa dell'Energia di Arezzo. L'evento, organizzato da New Mediar, si aprirà a partire dalle 18 con la premiazione delle migliori formazioni giovani gli Aretine, riconoscimenti non soltanto per le vincitrici dei campionati provinciali, ma anche per il team più corretto al quale andrà il premio Fair Play intitolato alla memoria di Otello Laurentini. La sera, dalle 21.15, sarà la volta delle prime squadre. Ci sarà la premiazione delle migliori formazioni dilettantistiche, quindi delle prime squadre, i migliori marcatori, i migliori marcatori ci tengo a sottolineare solo gli Aretini o i giocatori in forza a squadra Aretine che hanno vinto la classifica marcatori, insieme a loro i migliori arbitri e poi, novità di quest'anno, la consegna della scarpa d'oro e del pallone d'oro del calcio dilettante Aretino. Casella Bianca ancora da riempire per quanto riguarda il nome della vincitrice della scarpa d'oro femminile. Ancora non lo possiamo assegnare questo premio perché c'è un'ultima giornata a disputare, due giocatrici della stessa formazione sono in corsa per questo premio, quindi dovremo pazientare ancora qualche giorno. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comitato Regione Toscana della Lega Nazionale Dilettanti e le associazioni italiane di arbitri, allenatori e preparatori portieri di calcio.